Blitz contro l'occupazione abusiva delle abitazioni nelle vele gialla e verde di Scampia da parte della Polizia Municipale di Napoli. In azione sono entrati 170 agenti guidati dal Comandante Sementa alla presenza dell'assessore alla sicurezza Giuseppe Narducci. Obiettivo dell'operazione è stata la verifica delle occupazioni abusive. Qualcuno critica questi interventi, qualcuno che non sa la vera finalità dell'intervento e soprattutto è anche fissare determinate conoscenze, vedere un attimino chi c'è in questo caso, se ci sono elementi della criminalità organizzata e verificare all'interno di questi fatiscenti appartamenti chi effettivamente ci abita, anche in prospettiva delle prossime assegnazioni che il Comune farà assegnando agli aventi diritto dei nuovi alloggi. Durante l'operazione diverse centinaia di persone residenti nelle cosiddette case gialle di Scampia hanno manifestato davanti alla sede dell'ottava municipalità per rivendicare il loro diritto alla casa. È la prima volta che la Polizia Municipale compie un intervento sulle vele. Abbiamo iniziato da due vele stamattina e la situazione è quella che vedete qui, un luogo indegno che merita soltanto di essere cancellato, è il luogo in cui sono costretti a vivere moltissimi nuclei familiari. Noi peraltro oggi vogliamo capire esattamente qual è la situazione in questo momento nei quattro edifici delle vele che sono ancora in piedi. Tra coloro che sono comunque legittime assegnatari dei nostri alloggi una parte minoritaria e la gran parte di occupanti abusivi. Numerose sono le cosiddette stanze del buco individuate dalla Polizia Municipale durante il blitz. Gli agenti della Municipale hanno trovato all'interno di questi locali angusti molte persone che si stavano drogando e l'attrezzatura necessaria per preparare le dosi. A terra c'erano lacce emostatici e siringhe usate. All'interno di questi locali la Polizia Municipale ha trovato inoltre una decina di veicoli rubati tra motorini e automobili e numerose parti di carrozzeria anche questi di provenienza illecita. Oggi esprimiamo soddisfazione perché da vent'anni non si vedeva la Polizia Municipale entrare nelle vile per controllare la regolarità degli assegnatari e per far sì che questa gente abbia diritto a una casa vera per poi abbattere definitivamente questi mostri di cemento e riqualificare il territorio.